Oggi tocca a Grido, che si fa pure il primo giro su sto salvataggio. Insultatemi violentamente nei commenti perché sto per dire le seguenti parole. Poli, stopwatch, testa, void, con chiavi, più elemental. E nonostante ciò sono riuscito comunque a perdermi da boss rush per 30 secondi. E ma Isaac è così, delle volte skill, altre fortuna. Altre volte misura semplicemente la tua abilità nel riportare le uova a casa. Comunque ci mancava che non si arrivava da me casatana in queste condizioni. Eppure sulla fine, una volta mi faccio colpire da sciocco e la seconda... Non so se l'ho ancora capita benissimo. Sta di fatto che adesso sarebbe iniziata una tesissima parte a curo stretto. Con un'estrema cura ed uno sprite gigantesco, mi muovo a piccolissimi desilaranti passettini negli unici spazi in cui spero non ci siano lacrime perché nemmeno li vedo. E mentre percepisco la morte che mi arriva in faccia, noto anche che gli sta accadendo a pezzi il volto. Quindi mi metto a fine schermo a pregare. E guarda com'è morto sul filo di una run che si stava bruciando così. Da un lato non vorrei rovinare questa momentanea sensazione di vittoria. Ma dall'altra devo provare. Ed ovviamente mi scordo quale sia il layout consentito a Delirium. E decido di buttarmi perché tanto figurati se è questo. Questa frase va bandita. Faccio un ultimo disperato gesto perché so che è andata a merda e decido di scommettere sulle scommesse. Ma evidentemente mi sono perso qualche passaggio perché vengo schiacciato dalla ludopatia in maniera profondamente letterale.